Salve, salve, benvenuti a questa nuova rubrica, il primo numero di questo nuovo format che presenterò senza una cadenza fissa, ma che può essere utile per chi è interessato a partecipare ai concorsi e a esercitarsi costantemente. Uno dei suggerimenti che do io è non, diciamo, fogarsi con i quiz a centinaia per giorno, ma costantemente, 5, 6, 10, come sapete noi abbiamo un gruppo Telegram, adesso vi inserisco il link, che si chiama A Tutto Quiz, dove quotidianamente io pubblico dai 5 ai 10 quiz. La differenza rispetto a questa rubrica è che questa rubrica mi consente di commentare, lì invece verifico soltanto le risposte. Ecco il vostro A Tutto Quiz, mentre per questa nuova rubrica ho creato una pagina dedicata, adesso vi metto il link in modo tale che possiate seguirla all'interno della sezione concorsi, eccoli qua, 5 quiz commentati e adesso vi inserisco il link. Intanto attendo qualche istante che inizino a collegarsi gli interessati, intanto vi metto anche il link al gruppo Preparazione ai concorsi, quindi mentre A Tutto Quiz non consente commenti, si può solo rispondere ai quiz, invece il gruppo Preparazione ai concorsi è il gruppo che serve per dialogare, scambiarsi opinione, formare gruppi di acquisto o altre cose. Allora, intanto se mi date conferma nei commenti che riuscite a visualizzare bene, eccolo qua, buonasera, ben ritrovata Celeste, io intanto mostro i vari link, questo è A Tutto Quiz, ok vedo Publio, Mara, benissimo, questo invece è la community, è sufficiente la prima parte fino al punto it, poi cercate nella sezione concorsi, e questo invece è il gruppo Telegram. Ricordo che esiste anche un gruppo Facebook numeroso, oltre 10.000 iscritti, che è dedicato sempre ai concorsi con aggiornamenti e sempre scambio di opinioni senza particolari filtri, se non i disturbatori e gli spanner. Adesso vi inserisco anche in questo caso il link dedicato, eccolo qua, e lo visualizzo contestualmente. Bene, allora siamo pronti, ovviamente è un assaggio, sarà periodico, ma sarà pochino, diciamo, un 5 quiz per tenerci in forma. Ovviamente è gratuito, potete visionarlo adesso, lo potrete visionare successivamente, magari lo state vedendo in versione registrata, quindi sarà una selezione, questa di 5 quiz gratuita. Mentre ricordo per chi volesse collegarsi a, diciamo, quelli svolti in maniera più professionale, che normalmente sono 30, 50, 100, una volta ho fatto 500 quiz commentati, li trovate in diretta sulla pagina Facebook, invece in piattaforma, attraverso il motore di ricerca, se date la parola quiz, eccolo qua, trovate l'esito. Adesso vi faccio vedere anche in questo caso il link, questa è la pagina Facebook, e adesso il link della formazione con la ricerca con la parola quiz. Vedo che siamo arrivati ad un numero interessante per poterci divertire in questa prova. Allora, iniziamo. Intanto sapete che sarò noioso, molti di voi l'avranno sentito almeno 20 volte, il mantra del decalogo per la preparazione ai concorsi, e in particolare per l'approccio ai quiz. Velocissimo, questa volta non si cercano le risposte corrette, è una metodologia sbagliata, molti continuano a caderci, si cercano le risposte sbagliate. È più semplice cercare un errore, piuttosto che ricordarsi, invece di ricordarsi, che quella è la formula corretta della definizione di una norma o il testo di una norma. Molto più semplice capire che quell'errore è in quell'aggettivo, in quell'avverbio, in quel sostantivo, che può essere nella risposta e nella domanda. Attenzione, quando ci sono domande simili, spesso la risposta giusta è fra una delle due, quindi mi rivolgo a quel 50% di possibili risposte, e poi gli specchietti per la lodole. Gli specchietti per la lodole sono risposte corrette a domande diverse. Molto spesso chi fa un quesito chiede l'interesse legittimo è? E mi dà la definizione di diritto soggettivo, che è giusta, ma è la definizione giusta di una domanda diversa. Questo è frequente e io li chiamo specchietti per la lodole perché ovviamente traggono in inganno chi ha una preparazione intermedia, cioè una preparazione nella quale sa le cose ma non riesce ad associarle al punto giusto. Allora, iniziamo con i nostri quiz. Io ve li leggo, li dovreste vedere abbastanza bene, adesso io mi metto piccolino, vediamo un po' se riesco a ridurre la mia presenza. Facciamo così. Ok. Allora, ai sensi dell'articolo 5 del decreto 33 2013, fatti salvi casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione coindirizzata alla richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenurta a darne comunicazione agli stessi? Sì, mediante invio di copia corraccomandata con avviso di ricevimento per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione, no per espessa previsione del citato articolo, l'obbligo sussiste solo se i controinteressati sono minori di età o soggetti a tutela e curatela. Vi invito nella chat a mettere le risposte. Iniziamo, io attendo qualche secondo in modo tale vi do tempo di ragionare, di provare ad esercitarvi, che è questo lo scopo di questo piccolo incontro, e poi vediamo, scrivete magari 1A1B1C, questo è il quesito O04, scegliete come volete. Allora, vediamo un po', siamo partiti con una domanda abbastanza semplice, vedo che fioccano le risposte corrette, quindi la risposta corretta ovviamente è la A, la disciplina sull'accesso civico è analoga a quella sull'accesso documentale relativamente ai controinteressati, sapete che nell'accesso documentale è stato introdotto con il regolamento di attuazione, qui poteva trarre in inganno quel riferimento alla raccomandata, ma perché la norma ancora prevede questo strumento ormai desueto, e comunque prevede una procedura che appunto è molto molto simile quanto a procedura di procedimento amministrativo a quella dell'accesso. Vi chiedo, ed ecco un modo per approcciarsi bene ai quiz, vi chiedo, qual è la differenza fondamentale dal punto di vista della procedura e della procedura fra accesso civico e accesso documentale, legge 241 decreto 33. Provate a scriverlo nei commenti, quindi non accontentiamoci di scrivere A, iniziamo a ragionare, commentare, questo dovreste fare quando affrontate i quiz, perderci un quarto d'ora, io ho dato questo come range temporale, 30 secondi per rispondere e poi 14 minuti e mezzo per ragionarsi. Vedo Simona, brava, mi dice interesse, questa però è una precondizione, provate un po' a concentrarvi sulla parte precedente, va bene, nel senso che ho fatto una domanda molto generica. La motivazione, dice Francesco, sappiamo che la motivazione non occorre nell'accesso civico, occorre nell'accesso documentale. Vediamo altri, documentale egoistico va motivato, ok, vedo che Alessandra segue le mie dirette. Mi raccomando, quando andate all'orale non ripetete tutto quello che dico, nel senso alcune cose me le sono inventate, per cui diciamo siate più cauti. Lo scopo, bene, Giulia sottolinea la differenza di scopo, però io vi ho sottolineato l'aspetto procedurale. L'accesso egoistico, ok, bene, però siete concentrati su altre cose. Gli obblighi di pubblicazione, sì, l'accesso civico ordinario comporta l'obbligo di pubblicazione, ovviamente nell'accesso documentale no, si comunica solo al diretto interessato. Questa è una risposta che attiene all'aspetto procedimentale, quindi va bene. Vediamo un po' i termini. Alberto, precisa meglio perché sui termini, così come hai risposto, ti direi anche no, perché i termini sono gli stessi. C'è un aspetto dei termini che cambia, ok? C'è un aspetto dei termini che cambia. Vi ho dato un po' l'indicazione, spero corretta. Ok, vediamo un po' qualcuno se me lo sottolinea. Perché sottolineo questo? Perché spesso non lo si dice. Vedete? Molti di voi, questo è importante, perché vi ho lanciato questa sfida? Perché i jolly, quelli che io chiamo i jolly all'orale, cioè dire cose che gli altri non dicono e dire cose che la commissione non si aspetta che io dica. Le cose che avete detto, giustissime, ma sono cose che mi aspetto. Chi ha un livello medio, queste cose le deve dire. Termini rispetto le possibili impugnazioni, Alberto ci sei vicino, Becca ha indovinato, non vale il silenzio assenso. Nell'accesso documentale, o meglio, nell'accesso documentale c'è il silenzio rigetto, non vale il silenzio rigetto nell'accesso civico. Questo è forse l'aspetto più significativo dal punto di vista procedimentale, perché poi abbiamo un'istanza, la notifica ai contro interessati, l'accesso, l'accesso parziale, il diniego, il differimento, quindi l'esito è lo stesso, 30 giorni gli stessi, ricorso al TAR lo stesso, difensore civico eventuale è lo stesso, ma c'è questo aspetto diverso. Ok? Allora, il suggerimento di questo, diciamo, di questi cinque quiz che faremo periodicamente sarà cercare di sviluppare il ragionamento e ampliare. Non accontentatevi della domandina, la domandina può essere anche semplice, avete visto, avete risposto tutti bene. Ora, quando siamo andati avanti, invece, magari vi siete d'accordi che qualcosina poteva essere approfondito. Bene, andiamo sulla seconda. Prima rispondiamo e poi vi lancio un'altra occasione di approfondimento. In base alla sentenza della Corte di Cassazione sezione Unite 500 del 99, la responsabilità extracontrattuale si è stesa anche ai casi di violazione di un interesse di mero fatto, la violazione extracontrattuale si è stesa anche ai casi di violazione di un interesse legittimo, o la responsabilità extracontrattuale si è stesa anche ai violazioni di diritti non patrimoniali. Domanda, ovviamente, difficile per chi non ha mai sentito dire di questa sentenza, forse un pochino più facile per chi ha studiato giurisprudenza perché l'ha affrontata, o chi ha notato nel libro questa peculiarità. questa peculiarità. Vediamo un po' le risposte e poi le commentiamo come al solito. Vedo che arrivano le risposte. Intanto vi rappresento che tutti i quiz di questi 5 quiz che vi presenterò sono di banche dati reali, quindi banche dati dati in concorsi, tra l'altro questo è un concorso di 3 giorni fa, 5 giorni fa, quindi freschissimo, freschissimo, per categoria D, una preselettiva categoria D. Allora, vedo che molti hanno risposto bene, qualcuno ha sbagliato. Allora, la risposta corretta è ovviamente la B, la B perché la sentenza 500 del 99, dopo 110 anni nei quali il legislatore e la giurisprudenza aveva negato la risarcibilità dell'interesse legittimo, ha aperto la strada al riconoscimento del risarcimento dell'interesse legittimo, oggi contenuto nella legge 241 del 90, ma nel 99 non c'era nella legge 241 del 90, attraverso la sentenza della Corte di Cassazione, sezione unite. Ovviamente non la violazione dei diritti non patrimoniali che da sempre dall'antica Roma è risarcibile e non la violazione di un interesse di mero fatto che non è mai risarcibile. Quindi abbiamo i due estremi, la A mai risarcibile, la C risarcibile da Mo e la B che dal 99 in via giurisprudenziale e poi in via normativa è stata possibile risarcibile. Allora, parlando di responsabilità, adesso vi faccio il giochetto, Alessandra mi dice devo usare di più il libro, vero, facendo un giochetto ditemi un articolo e la relativa norma che vi viene in mente, il primo che vi viene in mente parlando di responsabilità, scrivete nei commenti. Anche questo è importante, cioè io lo dico sempre, quando vi trovate all'orale, questo soprattutto all'orale, allo scritto ho più possibilità di riflettere, ma all'orale io ho davanti a me la commissione che mi guarda e mi mette ansia e mi concede dieci secondi per riflettere ma non di più. Molte delle cose mi vengono in mente mentre parlo. All'inizio però devo avere dei flash, cioè appena leggo la domanda io devo avere il flash dell'articolo e infatti vedete, questo è utile perché già chi di voi ha commentato 2043, sottinteso codice civile, 2043, 28 della Costituzione, articolo 1, legge 20 del 94, questo è un pochino più raffinato, la legge sul controllo della Corte dei Conti, 2043, articolo 28, 34 del codice di processo amministrativo, ancora più raffinato, Publio Valerio che penso in funzione del nome ha utilizzato un latinismo, Aquiliana, quindi penso sia di Roma e spero non parli solo latino, articolo 21 del 165 2001, guardate segnateveli tutti, questo è utile perché avete spunti da altre persone che vi hanno dato magari articolo 2 bis della legge 241, guardate quante ne vengono fuori, 2043, 2059 del codice civile, qualcuno ha allargato il range, articolo 21 responsabilità dirigenziale, 21 del Tupi, testo unico del pubblico impiego, Alberto Scomoda Brunetta nel 2009 che la esclude, non so cosa intendeva dire, 1453, qui siamo sulla responsabilità però contrattuale, quindi forse un po' fuori, la domanda era responsabilità a tutto tondo, che riguarda tutta l'azione dei dipendenti pubblici, allora vi dico io, poi opinioni personali, io avrei citato l'articolo 28 della Costituzione per tre motivi, primo perché è l'articolo che parla di tutte le forme di responsabilità, civile, amministrativa, penale, due perché è la fonte suprema, quando vi viene chiesto di citare un articolo si parte dalla Costituzione, se poi non c'è in Costituzione salto, ma raramente non trovo un articolo della Costituzione alla base di una norma di diritto amministrativo, guardate è rarissimo, anche se fosse solo il 97 della Costituzione c'è sempre, quindi tenete conto che quasi sempre un articolo della Costituzione è il punto di partenza, è quello da cui si parte all'orale, è quello da cui si parte nel fare il ragionamento. Chi di voi ha dato le altre risposte? Benissimo, non sono sbagliate, ma sono settoriali, non sono di contesto. Il 28 della Costituzione è probabilmente, insieme al 54, perché il 28 prevede responsabilità civile, penale e amministrativa, mentre il 54 implicitamente quella disciplinare, quindi completa il quadro costituzionale, è importante. Alberto è andato sulla class action di Brunetta che esclude la tutela risarcitoria, ma nei confronti delle azioni per danno nei confronti della pubblica amministrazione, quindi sempre parziale, però diciamo anche questa è stata un'utile esperienza, segnatevi tutto ciò che è stato commentato in chat, andate a vedere quegli articoli se non ci avete fatto riferimento, c'è chi ha citato il RUP nel codice degli appalti, il 1218 sempre responsabilità contrattuale del codice civile. Bene, andiamo avanti con la terza, vedete quanto si può stare lì a discutere, a chiacchierare, può sembrare ozioso, guardate però, io ve lo dico a vostro beneficio, fa meglio perdere dieci minuti di tempo a fare questo giochetto invece che fare 20 quiz nello stesso larso di tempo. Con il decreto 29 del 93, oggi Tupi, è stato possibile distinguere nettamente i poteri dell'organo di governo da quelli dei dirigenti. Agli organi di governo spetta in particolare l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziari da destinare alla diversa finalità e la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale generale, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa o l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo? E qui vi voglio, vediamo un po', 18A, 18B o 18C? O 3A, 3B, 3C, come preferite. Vediamo un po', iniziano ad arrivare le risposte. Allora abbiamo la maggioranza vota A, abbiamo un B, un C, abbiamo un tre chiocciola, cioè vota tutto, molto interessante, non so se valga per i concorsi, penso si sia buttati fuori, però in questa sede può essere carino. Irene, diciamo, ci dà anche l'indicazione del perché le altre sono sbagliate, anche Osvaldo, ottimo, ottimo, perfetto. Bene, allora andiamo a vedere la risposta giusta, ovviamente qui si doveva stare attenti alla domanda, mi sta chiedendo gli organi politici, quindi sicuramente la parola sbagliata è la B, gestione, la parola gestione è incompatibile con la parola organi di governo. Politica versus gestione, ok? Quindi la parola gestione no. L'organizzazione delle risorse, ok, l'organizzazione non è incompatibile con la parola organi di governo, perché noi sappiamo, e voglio da voi la scritta, qual è quella cosa che fa l'organo politico che ha dentro la parola organizzazione? Guardiamo un po' se rispondete bene. E lo fa l'organo politico, nonostante sia l'organizzazione. Attendo i primi commenti. Allora, c'è chi dice la giunta regolamento, ROS, ROS è l'acronimo di regolamento organizzazione degli uffici e dei servizi, l'organizzazione degli uffici e dei servizi era quella a cui alludevo, quindi non tanto il PEG e il DUP, il PEG avrebbe la parola gestione, piano esecutivo di gestione, programmazione, regolamento, l'abbiamo capito, è il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ma il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sull'ordinamento, non è tanto sull'organizzazione, sull'ordinamento contiene la disciplina generale, quindi l'individuazione delle risorse umane, non delle singole specifiche risorse umane, attenzione anche qui, allora, questo quesito è ambiguo, cioè la B va scartata, indubbiamente, fra la A e la C ci potevano essere dei dubbi, perché l'individuazione delle risorse non deve intendersi delle specifiche risorse, stabilire se Mario Rossi va all'ufficio anagrafe o all'ufficio elettorale non è prerogativa necessaria degli organi di governo, è prerogativa del direttore generale piuttosto che del responsabile del personale, è comunque una prerogativa tecnica, ma l'individuazione delle risorse in astratto, il piano dei fabbisogni, ci siamo? Quindi la regolamentazione astratta, così come delle risorse materiali ed economico-finanziarie, soprattutto mi aiutava la ripartizione tra gli uffici di livello di regenziale generale, state attenti perché, pur essendo questo un quesito dato in un concorso per enti locali, la risposta è riferita all'amministrazione dello Stato, questo è un problema che avrete nel fare i concorsi in questo periodo, molti enti si affidano al Formez, il Formez è un ente statale, ha una banca dati sua propria, ricchissima, enorme, spaventosa, però fondata soprattutto sugli enti statali. Allora, quando non rivedono bene le domande, vi può capitare questo, anche perché non è detto che la domanda che vi venga fatta per un concorso degli enti locali si riferisca agli enti locali, quindi state attenti perché questa parte qui, livello dirigenziale generale che esiste nello Stato, non esiste negli enti locali, negli enti locali esiste un solo livello dirigenziale, non esiste livello dirigenziale generale e livello dirigenziale non generale, poteva trarre in inganno, mentre sicuramente è la A. Bene, anche questo esercizietto l'abbiamo fatto. Andiamo al quesito 4, guardate lungo, io qui nel decalogo il mio suggerimento è passarlo, via, troppo lungo, ci metto troppo a leggerlo, lo faccio alla fine se c'ho tempo. Ora non siamo alla fine, quindi noi lo facciamo. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto 33 2013, le PA garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali rispetto degli obblighi di pubblicazione previste da legge assicurando l'integrità e il costante aggiornamento, la competenza, tempestività, la semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della provenienza, la loro utilizzabilità. Ovviamente qui non potete ricordare a memoria se è giusta. Voi potete solo cercare di capire se c'è un aggettivo, un avverbio, un sostantivo sbagliato. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali rispetto agli obblighi di pubblicazione previste da legge assicurando l'integrità, il costante aggiornamento, la competenza, tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facilità, ma non la conformità dei documenti originali in possesso dell'amministrazione, dell'indicazione della provenienza della loro utilizzabilità. Vedete la differenza è quel, ma non. C, le pubbliche amministrazioni non garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti. Allora, provate a dare la risposta, vedete che la difficoltà di questo quesito non è il quesito, il quesito è molto più semplice degli altri, perché c'è una risposta banale, le pubbliche amministrazioni non garantiscono la qualità delle informazioni, pubblicano a cacchio, un po' come i post di Telegram e di Facebook anche i vostri, ogni tanto quando sparate delle leggende metropolitane, ho sentito dire che al concorso lì il commissario tira le penne addosso a chi sbaglia. Allora, quindi, la C, cioè quel non garantiscono che rende tutto ciò che è dietro errato, la B, notate dove viene messo l'errore in fondo, nascosto, ma non la conformità, il che uno potrebbe anche pensare. Eh, forse producono già i documenti elettronici, quindi la dichiarazione di conformità non serve, ok? Ottimo Francesco, Francesco mi dice, il tema di questo quiz è trova l'intruso. Sì, allora io, chi mi segue lo sa, consiglio sempre a moltissimi, di utilizzare la settimana enigmistica come strumento di preparazione ai concorsi. Ora, non l'andate a dire in giro perché perdo, diciamo, autorevolezza. Guardate, non soltanto per le prese elettive logico-attitudinali, che ancora ci sono, non così diffuse come prima, ma ci sono. Ma anche per i quiz, perché questo quiz, se guardate bene, non ha niente di giuridico. Voi l'articolo 6 del decreto orientale non lo sapevate, eppure siete stati in grado di rispondere, ok? Siete stati in grado di rispondere. Allora, aiuta il trova l'intruso della settimana enigmistica. Quei non dicono tutto, giustamente dice Irene e Nicola nei commenti. Andiamo avanti, quindi, la risposta giusta ovviamente la ha. Bene, quanto devono stare pubblicate le informazioni? Tutta questa robaccia qua. La pubblica amministrazione garantisce bla 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 bla, e quindi pubblica in questa sezione del sito di amministrazione trasparente. Scrivete nei commenti quanto devono rimanere pubblicati questi atti. 15 giorni? 30 giorni? 6 mesi? Un anno? Di più? Di meno? Cercate di dare la risposta giusta. Chi sta rispondendo o non sta rispondendo correttamente. sapete che il giurista è pignolo per definizione, ok? Ivano ha esagerato, 15 anni. Nel diritto poca roba arriva a 15 anni. Sonia addirittura 30 anni, o no? Ah no, scusate, forse erano giorni, eh? Ivano diceva 15 giorni. Sonia 30 giorni. Scusate, pensavo fossero anni perché stavano tutti rispondendo anni. Raffaele, 30 giorni. Ok, vedete, Maria Angela, detta la pignola, ha precisato bene. Non Carmela, non 5 anni dalla pubblicazione, ok? Fino a quando l'amministrazione ha l'obbligo, quindi 5 anni? No, no. Giulia, ha precisato anche lei, 5 anni dal primo gennaio successivo al momento della pubblicazione, o meglio dell'obbligo di pubblicazione, neanche della pubblicazione. Quindi, avevo l'obbligo di pubblicare oggi, che è il 17 ottobre, dal primo gennaio scattano i 5 anni di pubblicazione, quindi raramente sono 5 precisi. Sono 5 precisi se pubblico il 31 dicembre, altrimenti sono sempre 5 più qualcosa. Se pubblico il primo gennaio sono 6, ok? Se poi uno di questi sicuramente bisestile, sono anche più di 6 anni. Bene, vedete, anche questo è stato utile perché molti di voi questa cosa gli era sfuggita ed è una domanda frequente nei quiz, quella della termine di pubblicazione in amministrazione trasparente. Chi è che pubblica in amministrazione trasparente? Altra domandina per soffermarci sempre su questo tema. Chi è tenuto? Chi lo fa? Cioè, chi lo fa materialmente? Vediamo se mi date qualche indicazione. Claudia, ricorda una cosa, mi è utile la tua risposta perché voi tendete, tutti, voi ora, voi non vi conosco, ma diciamo, chi si approccia ai concorsi tende a rispondere in funzione del tipo di concorso. Mi presento nel comune, rispondo segretario, ma io ti obietterei, ma il segretario comunale, ammesso che tu sia riferito al segretario comunale, può essere anche il segretario generale di un ente statale, il segretario comunale c'è solo in comune, quindi la domanda, il decreto 33 trasversale riguarda tutti gli enti pubblici, quindi non può essere il segretario, non c'è il segretario comunale nel, che ne so, nell'agenzia delle dogane o nell'agenzia delle entrate o nel ministero dell'interno. Allora, Francesco Rupp, punto interrogativo, per cui se sbaglio almeno l'avevo già messo il dubbio, però vi dovete abituare all'orale, mai usare i punti interrogativi, all'orale quando si va si deve dare la risposta, non si guarda il commissario dicendo è per caso il Rupp, no, se avete indovinato vi siete giocati la risposta giusta, se avete sbagliato, tanto avete sbagliato, dritti con la schiena, Rupp, ed è sbagliato il Rupp ovviamente. Responsabile del servizio, responsabile della trasparenza, responsabile della trasparenza e referenti della trasparenza verso gli uffici, il dirigente del servizio che fa pubblicare le determini. Allora, intanto vedete che varietà di risposte. Voi immaginatevi un commissario all'esame, quindi se fa questa domanda a dieci persone si sente dieci risposte, che non è detto che siano tutte sbagliate. Ricordatevi però una cosa, non sempre nel diritto c'è il bianco e il nero, non sempre la risposta è unica. Qui la risposta è dipende, dipende. Certamente il responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, andava bene anche il responsabile della trasparenza perché teoricamente possono ancora essere due figure distinte, ma diciamo che tendenzialmente sono unificate i responsabili della corruzione e della trasparenza, ha il compito di coordinare gli obblighi di pubblicazione. Questo non significa che lo faccia direttamente lui, ma spetterà al regolamento di organizzazione A e al piano anticorruzione, questa è una cosa che stanno in pochissimi, il piano anticorruzione deve contenere le indicazioni dei nominativi e dei tempi per garantire gli obblighi di pubblicazione. Quindi dirà il dirigente trasmette all'ufficio centrale che poi pubblica, il dirigente pubblica direttamente l'amministrazione trasparente o via di mezzo. Alcune cose le pubbliche, per esempio l'ufficio appalti normalmente pubblica direttamente l'amministrazione trasparente, ma non tutti i provvedimenti, non quelli diciamo di carattere generale. Quindi abbiamo una diversità, quindi è l'occasione questa per ripassare la disciplina dell'anticorruzione e della trasparenza. È una disciplina fondamentale per l'orale, vi fa fare un figurone, vi fa guadagnare due o tre punti perché la sanno in pochissimi e compare ogni tanto anche nei quiz. Ok, intanto voi prendetevi nota, io quello che vi consiglio è rivedete questa lezione, questa lezione chiamava questo commento, non tanto per quel che dico e quel che proietto, tra l'altro poi vi metterò il link per scaricare, anzi ve l'ho già messo, vi rimetto la pagina dove appena finita la diretta potete scaricare le slide, ma è interessante vedere i vostri commenti, imparerete più da quelli che non da quello che dico io. Ok, eccovi a voi i link della pagina community.it, community.omnivis.it e poi andate su concorsi e trovate questo link. Bene, siamo pronti per l'ultima? Adesso io farei una gara, una bella sfida. Sfida di velocità, vediamo chi sono i primi tre che rispondono esattamente alla prossima domanda, quindi io la proietto, voi leggetela ancora prima che io la legga ad alta voce e vediamo chi è il primo che indovina, i primi tre che indovina. Dice Provvidenza, infatti da noi il dirigente fa pubblicare le determine, le gare direttamente si pubblicano all'ufficio contratto, ok, altri argomenti da noi è il webmaster, perfetto, è quello che vi dicevo, dipende, dipende dall'organizzazione, possono essere anzi generalmente nelle strutture medio-grandi, è una pluralità di soggetti che opera. Pronti? Allora, tre, due, non si vede bene, Irene, Irene inizia a contestare le regole del gioco, qui iniziano a esserci dei primi segnali di ricorso, mette le mani avanti, guardiamo un po' se adesso si vede bene, dimmi quando si vede la documentazione, io ce l'ho a tutto schermo, quindi non dovrebbe esserci problemi, se si vede male forse dipende dalla tua connessione, ok, adesso sì, bene, quindi non avremo ricorsi amministrativi contro questa prova. Via! Il preavviso di provvedimento di Nidiego di cui ha il 10 bis, legge 241, ha come funzione quella di implementare i contraddittori nella fase procedimentale nel caso in cui il procedimento iniziato su istanza di parte appaia a doversi concludere con un provvedimento sfavorevole? È riservato ai procedimenti in materia previdenziale, assistenziale, soltanto seguito a distanza di parte e gestite da enti previdenziali? È un atto endoprocedimentale autonomamente impugnabile in quanto non ha natura predecisoria? Via! Guardiamo i primi tre che rispondono esattamente. Alberto si è lanciato, Claudia con testa non vede la domanda, ma l'ho letto ad alta voce. Giulia e Giovanni, Alberto, Giulia e Giovanni sono tra i primi tre in velocità. Arrivano anche altri, abbiamo diverse A, abbiamo anche una C, c'è ancora la domanda quattro? Dipende. Allora Facebook è un po' più lento di YouTube, quindi quando seguirete le prossime dirette vi consiglio di seguire la diretta su YouTube che è diciamo a uno streaming minore. Cosa significa? Che il mio messaggio, il mio segnale arriva prima diciamo rispetto agli altri canali. In questo momento siamo in diretta sia su YouTube che su Facebook che su LinkedIn che su Twitter. Quindi vedo che chi sta dicendo che ha problemi di visualizzazione è su Facebook. Purtroppo non dipende da me. Quindi la prossima volta sul mio canale YouTube vi consiglio di collegarvi, adesso vi metto il link anche perché vi arriva l'avviso, vi arriva anche su Facebook, ma diciamo vi arriva l'avviso immediato. Questo è il mio canale YouTube dove potete iscrivervi gratuitamente, ovviamente c'è anche la parte in abbonamento, ma ora interessa soltanto. Twitch no, al momento ho contenuto i social network, sì sono anche su Instagram, ma però diciamo che è difficile fare tutto su tutto. Anche YouTube è leggero ritardo, quello senz'altro, c'è una leggera differita, ma meno che Facebook. Il ritardo si chiama streaming, diciamo queste dirette sono in streaming. Allora, bene, bando alle contestazioni, vediamo qual è la risposta esatta. La risposta esatta ovviamente è la A, alla funzione di implementare il contraddittorio nella fase procedimentale, nei procedimenti a stanza di parte, quando si stanno per conchiudere spavorevolmente. Qualcuno di voi ha risposto C, perché? Perché nel leggere velocemente ha letto una cosa giusta, è un atto endoprocedimentale che non ha natura predecisoria. In realtà qui c'erano due errori, specchietti per le allodore. Uno, questo autonomamente impugnabile, lo vedete nel mezzo? Se voi leggete velocemente autonomamente impugnabile, vi sembra che dica che è atto non autonomamente impugnabile, perché è una delle caratteristiche del diecibisto, non si può impugnare autonomamente. In realtà qui mi dice che è atto autonomamente impugnabile, primo errore. In quanto non ha natura, in realtà, qui c'è un errore, non ha natura predecisoria, due negative, cioè non pre. In realtà ha natura predecisoria, non ha natura decisoria. Quindi la C aveva due specchietti per la lodo, le due parole, autonomamente impugnabile, predecisoria, che potevano essere messe giuste nella risposta, ma definita, scritta in un modo diverso. Quindi se la risposta fosse stato è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile, in quanto ha natura predecisoria, quindi quel non spostato nella prima parte della frase, era la risposta giusta. Questo invece non è. Quindi scartando la B e la C, a di là ora del giochettino del chi è arrivato primo, non vi preoccupate, non vincete niente al momento, poi magari mettiamo dei premi, al momento non si vince niente. Allora, adesso vi chiedo, mi dite quale domanda si potrebbe fare legata al 10 bis? Mi dite una caratteristica fondamentale del rapporto fra 10 bis e i soggetti lato pubblico e amministrazione che operano nel 10 bis. Ripeto, cosa ha di caratteristico il 10 bis? Nel rapporto fra dirigente dell'unità organizzativa e responsabile del procedimento. Vediamo un po' se qualcuno di voi, qui non andate veloci, cercate di rispondere. Maurizio dice le tempistiche, Giulia gli è partito l'invio per andare a capo, il responsabile del procedimento, però lo fa il responsabile del procedimento? C'è da capire? Vediamo un po'... è importante, il 10 bis nell'orale è frequentissimo, perché è una delle tematiche nuove, ormai ho una decina d'anni, però insomma abbastanza nuove. Garantire il principio del contenitore però non è la domanda che ho fatto, la domanda è il rapporto fra il responsabile dell'ufficio e il responsabile del procedimento. In pratica, chi adotta il 10 bis? Sempre responsabile dell'ufficio? Sempre responsabile del procedimento? Il dirigente può decidere di lo recettare motivando potere di sostituzione dal parte del dirigente rispetto al responsabile, non si chiama potere di sostituzione, il potere procedura afferente di istruttoria che effettua il RUP. Ecco, un'altra cosa, Osvaldo, non usate la parola RUP riferita al responsabile del procedimento. Il RUP c'è solo negli appalti, ok? Quindi quando ci si riferisce alla 241 si parla di responsabile del procedimento, non RUP. È terminologicamente sbagliato, concettualmente sbagliato a chiamare il responsabile del procedimento della 241 RUP. Negli appalti prende il nome di RUP, che significa responsabile unico del procedimento. Nella 241 non è necessariamente unico, ve lo dico perché all'orale un po' stona sentirsi dire il RUP. L'RDP va bene, è responsabile del procedimento, è responsabile dell'istruttoria. La delega? Sì, sì, ok. Bene, allora, ve la faccio molto sintetica. Nel 10 bis, se il dirigente non dispone diversamente nell'atto di nomina del responsabile, sappiamo che il responsabile del procedimento è il dirigente dell'unità operativa, se non assegna ad altri. Io posso assegnare ad un responsabile del procedimento e digli, ok, tu fai tutta l'istruttoria ma non fai il 10 bis, lo posso fare, rientra fra i miei poteri, ok? Così come se non dico niente si ritiene che il responsabile del procedimento possa adottare anche il 10 bis, perché? Perché il 10 bis, avendo natura predecisoria, non rientra nelle fasi riservate al responsabile, ok? Che succede se il responsabile del procedimento fa un 10 bis, una comunicazione di motivi ostativi, a fronte della quale l'interessato non interviene? Cioè non allega documenti, informazioni, non contesta, non dice niente. L'atto finale sarà sempre negativo? Allora, tu mi hai fatto domanda di permesso a costruire, in quanto locatario. Io responsabile del procedimento ti dico preavviso dirigetto perché il locatario non può fare domanda di permesso di costruire. Tu non fai niente, passano i famosi 10 giorni. Il dirigente del servizio deve fare un diniego? Vi rispondo? Non necessariamente. Il responsabile del servizio potrebbe non ritenere corretto il preavviso dirigetto e fare comunque un'autorizzazione, anche in assenza di scritti difensivi da parte dell'interessato. Si tratterebbe di potenziale acquiescenza? Assolutamente no. L'acquiescenza natura processuale, ok? O diciamo comunque a conseguenze processuali non endoprocedimentali, quindi chi tace sta zitto non è chi tace acconsente e anche se acconsentisse il dirigente è titolare della fase istruttoria, quindi non è vincolato alla decisione del responsabile del procedimento. Ovviamente la 241 dice deve motivare, deve motivare perché si discosta dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento. Questo è l'unico onere che ha ma potrebbe anche decidere diversamente. Questo guardate è un super jolly. Cosa sono i super jolly? I jolly sono le cose che la commissione non si aspetta che diciamo. I super jolly sono le cose che a volte anche i membri della commissione ignorano e vi assicuro che questa tematica è molto molto particolare e potrebbe anche stupire favorevolmente la commissione di dire oh non ci avevo pensato a questa cosa. Bene, Beatrice tentava di esprimersi ma non non gli era venuto, non importa. Riguardatevi ovviamente i vostri commenti. Allora io vi dico torneremo a occuparci di queste tematiche. Vi preannuncio in anteprima, siete i primi che lo sanno diciamo ufficialmente, parte il Tg Chiarelli. Tg Chiarelli è un appuntamento settimanale che terremo il lunedì sera alle 21 con un qualcosa di intrattenimento. Diciamo non è una lezione, avrà magari invece che cinque due quiz commentati, ha il servizio esterno, alla sentenza importante, ha le ultime novità sui concorsi, ha delle curiosità di diritto, 45 minuti, un'ora, mezz'ora, a seconda tutte le settimane di aggiornamento sugli aspetti giuridico normativi anche per prendere in maniera un pochino più allegra. Quindi lunedì se volete alle 21 sintonizzati su Facebook, su YouTube, sugli altri canali per chi vuole seguire anche questa occasione. Mi raccomando, se volete, su YouTube, su Facebook, mettete mi piace, segui ai miei canali. Vi ricordo la sezione concorsi del sito Omniavis dove c'è tanto materiale, compreso questo materiale. Vi ricordo chi vuole seguire le dirette professionali, quelle invece che 5-50 quiz commentati, un po' come questi, seri ma anche un po' divertenti, perché un altro trucchetto che vi dico, imparare divertendosi fa, consente di memorizzare meglio i concetti. Non è soltanto buttarla a ridere per fare il simpatico, è una tecnica didattica. Quindi cercare di rendere meno pesante a chi magari è la sesta, settima ora che sta studiando queste cose, è un modo per cui nel vostro cervello si fissa meglio che non il malloppone di diritto amministrativo che vi dà la definizione perfetta di diritto soggettivo ma che un secondo dopo non riesco proprio a ingoiarla. È possibile rivedere questa diretta nel link che vi ho mandato e sui miei canali YouTube e Facebook. Ricordo che per chi è interessato c'è la pagina di abbonamento al canale YouTube, fateci un pensierino perché per il prezzo anche dell'abbonamento professionale mensile ha tantissimo materiale a disposizione, ha anche intere lezioni di approfondimento, non sostituisce i corsi, i corsi sono tutt'altra cosa, però è un'utile integrazione da valutare, costi permettendo, ovviamente questo lo valuterete voi. Per chi vuole esercitarsi c'è il corso sempre implementato di preparazione ai concorsi dove troverete anche questa registrazione, quindi sarà caricata sul 501 insieme a quasi tutte, diciamo, le lezioni dei vari corsi che trattano di quiz, quindi quando in un corso c'è una lezione dedicata ai quiz questa finisce nel corso 501, quindi è sempre aggiornato, anche a chi l'ha comprato due anni fa troverà le nuove lezioni, uno dei corsi, diciamo, implementati costantemente, COD 501 e vi ricordo il manuale, il doppio manuale, quello completo che comprende la parte teorica e le esercitazioni e quello di esercitazione, quello dedicato soltanto alle prove a quiz, traccia aperte, orale e quant'altro. Vi ricordo velocissimamente il link per accedere al libro, per valutare, c'è anche la versione demo gratuita, quindi magari prendete la versione demo gratuita, che non costa niente, per vedere se è di vostro interesse. Io vi ringrazio, vi saluto e chi vuole, fra 20 minuti circa, nuovamente in diretta, con una diretta su un tema molto molto di attualità e ve lo lascio un po' in suspense. Arrivederci!